La ragazzina con la corda inizia la storia, intera storia che opera di bambini, un paesaggio inventato per seppellirci gli animali morti, le stelle inventate della ragazzina con la corda per contare, avvenimenti, atti, luoghi, sette, luoghi organizzati in modo da vestire una storia, una storia con un principio, un centro, una fine e un senso della progressione che culmina in un finale a due cifre, uno scopo realizzato, un epilogo raggiunto. Grazie a tutti.